Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori sono chiuse le corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci con la chiusura dello svincolo di Firenze in pruneta. Sul tratto si è formato un chilometro di coda. Sulla FIPILI per lavori un chilometro di coda in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in pruneta. Sulla statale 146 di Chianciano al chilometro 15 chiusura della strada in entrambe le direzioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Sulla statale 146 di Chianciano, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Sulla statale 146 di Chianciano, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.